Buonasera a tutti, oggi 6 di dicembre, ultimo mese dell'anno, sono felice di darvi il benvenuto alla sessione Forecaster Sherry System Live, la prima appunto dell'ultimo mese dell'anno del mese di dicembre, io sono come di consueto il vostro Marco di vita, ovvero l'uomo dello Sherry System, come mai mi conoscete, e vi do un benvenuto stasera, un benvenuto speciale, perché terminiamo l'anno però con le previsioni del nuovo, naturalmente non posso nascondere di essere particolarmente carico quest'oggi, per un semplicissimo motivo, e il motivo è che facendo le analisi proprio in questi giorni, intanto saluto tutti, saluto Michele, Luca, Roberto, dunque dicevo che sono particolarmente carico, perché in queste sere stavo appunto facendo delle analisi utilizzando le mie previsioni e sono particolarmente ottimista perché ho visto che tra loro molte molte cose combinano, se noi ad esempio andiamo a vedere un euro yen, secondo che si apre, e l'apriamo con il paint, come al solito, vedete, dovrebbe a breve arrivare, c'è stata un'ultima sgambata verso l'alto, dovrebbe a breve arrivare un ritracciamento, se noi dovessimo andare a vedere l'USD yen, dollaro americano contro la valuta nipponica, vediamo che anche qui c'è un po' lo stesso movimento, diciamo, e questo fitta in particolar modo con quello che è il movimento delle borse, nel senso che sappiamo che lo yen è una moneta fortemente correllata alle borse e di conseguenza se dovesse esserci uno storno prima della ripartenza del nuovo anno, questo storno combacerebbe a meraviglia. Bene, detto questo, io direi di non perdere altro tempo e di tuffarci in quelle che sono le previsioni vere e proprie. Quindi abbiamo aperto l'SMP500, io sono curioso di vedere se ci sarà effettivamente lo storno che dovrebbe esserci, vediamo. Allora, andiamo a prendere subito il grafico dell'SMP, allora, SMP500 che è poi il nostro VS500 cache sulla lista, allora, grazie. Grazie a tutti